2 mi devi mirare quello che non sta accadendo allora ho stand e gotation signori stavo registrando all and play e non ho potuto e la missione la finirò in un secondo momento quindi farò un accorpamento di cose e fine dimitri è stato dimitri bastardo chiama il taxi ti prego voglio andare là a piedi grande tra l'altro la mia vita non è che sia messa benissimo ma ce la dobbiamo fare ok basta cazzate adesso mi offre munizioni ma non mi offre vita questa delle missioni assolutamente più difficili del gioco credo che sia proprio la più difficile signori per fortuna non vengono all'infinito ok qua devi andare per step fare fuori piano per piano ci sono degli esplosivi però ha funzionato ok vieni fuori uh questa fa male minchia romanzo sempre a doverti pagare il culo però eh sicuro che c'è nowhere to run tanto te sei fuori a dove viene sta voce ah ok no ci caschi di sotto? che ci faccio cascare io? minchia oh uh questa fa male tu sei ancora vivo vedete ci sarà la polizia più tardi ma sto qua dove siete? lì sopra ok mamma mia sto zitto perché sono troppo concentrato se la fallisco vabbè è la più difficile praticamente quindi sarebbe comprensibile ma non voglio fallirla ho fallito missioni assai ridicole fino adesso eh oh soluzione 2 anche te che non ti sposti grande coglione dai vedo un giubbottino davanti a me goloso oh 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 Vai Bravo Che poi ti nascondi lì Premio furbizia dell'anno Oh Ho perso più vita con questo Che con altro Più vita con un cazzato che da tutti gli spari Due Mi devi mirare quello Che non sta accadendo Mamma mia Devo insegnare tutto proprio Vai giù Fuori un altro Uh che volo E potrei arrivarci così Fuori Se casco di sotto ragazzi è la fine Muoio sul colpo No Sì Sì Sennò mi toccava ricominciare da capo Sì Thank you cousin You saved my life Again Direi Perfetto Uscita silenziosa Tranquilla Non mi direi che siamo ricercati No Però ora no Bohen Sì No. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Wrong. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get this place in Algonquo. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expected it now. Perfetto, ragazzi. C'è la missione più difficile. L'ho affrontata in maniera... Pulitissima. Super mega, iper pulita, eh. Mamma mia. Ecco, non ti infoniare più nei casini. Testa di minchia. All you care about is money. Devi smettere di fare minchiate E di giocare ad azzardo Ecco perché i soldi Ogni tanto vanno giù Disappear Ok Ok Che bella messa a fuoco come sempre Quindi insomma Per quanto riguarda Steiner Cotation Ragazzi Like al video Iscrizione al canale E ci vediamo alla prossima